Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video Finalmente forse riesco a registrare questo video perché la quarta volta che ci provo mi è caduta in testa una softbox quella che c'è qui sopra, mi si è staccato il microfono che no, adesso rimane fermo per fortuna mi sono crollate tipo le robe che ho qui sul tavolo insomma, oggi sembra non essere destino che io registri un video o forse siete voi che siete stufi di vedere acquisti e quindi state cercando di non farmi dimostrare potrebbe essere una cosa del genere comunque chi se ne frega, intanto io voglio farvi vedere un sacco di cose che ho acquistato so che nell'ultimo periodo vi sto riempiendo di video acquisti però ragazzi io compro roba e voglio mostrarvela e quindi sono ancora qua a farvi vedere acquisti e devo dire che ne ho quindi visto che ho perso un sacco di tempo perché non riuscivo a iniziare a registrare visto che ho un sacco di roba e visto che ho poco tempo perché poi devo scappare via direi che è meglio cominciare subito a farvi vedere il casino che ho qui sì, direi che è il caso allora, da dove partiamo? dagli acquisti Primark facciamo così dai allora spostiamo queste cose e cominciamo da quelli Primark per prima cosa ho acquistato così partiamo subito con una cosa della sirenetta questa cosa che vista così sembra assolutamente niente ma è della carta regalo della sirenetta come posso farvela vedere? forse riesco a farvela vedere da qua perché poi ovviamente sono quelle robe super olografiche insomma comunque in teoria qua si dovrebbe riuscire a vedere c'è Ariel questo artwork appunto preso da Primark poi qui c'è Flounder insomma c'è un po' di roba ma non ho ancora ben capito so che appena l'ho vista ho detto vabbè io la compro poi non so se dovrò mai impacchettare regali e se mai utilizzerò questa carta per impacchettarli perché la vedo dura però mi piaceva come sapete poi se c'è una cosa di Ariel ovvio che devo comprarla e quindi eccola qua vabbè andiamo avanti mi sto già incartando e comincio a giocare con il tubo non va bene da Primark ho comprato anche queste lucine che fanno un casino tremendo perché sono di vetro sono molto carine ma l'ho scoperto solo dopo averle acquistate perché io le ho acquistate perché erano in sconto diciamo la verità e sono queste bottigliette sono tutte piccole bottigliette così tipo pozioni piccole ampolle con il tappino di sughero e dentro se vedete c'è quel non so come chiamarlo quella specie di cartina olografica e ci sono tutte queste bottigliette le ho pagate 2 euro ma mai avrei pensato che accendendole sarebbero diventate così fighe vediamo se riesco a mostrarvele allora cerchiamo di raccoglierle un po' di più senza romperle e sì non si vede assolutamente una cippa di niente forse avvicinandovela no nemmeno oddio che palle volevo farvele vedere bene comunque accendendo le lucette all'interno queste fanno tutte questa luce tipo molto arcobaleno e quindi risultano bellissime se poi riesco vi faccio una foto al buio dove sicuramente si notano meglio e ve la lascio qui adesso però le spengo e andiamo avanti sperando di non rompere niente sempre da Primark ho acquistato se vi ricordate nello scorso video in due video acquisti fa una cosa del genere in uno scorso video vi ho fatto vedere che ho acquistato quella trecciona di capelli che andava da viola scuro a viola chiaro e vi ho spiegato che sono quelle treccione che utilizzo per fare reroute alle bambole se per caso state pensando di acquistare quelle trecce da Primark per le bambole ve le sconsiglio io le sto comunque utilizzando perché bene o male per il progetto che ho in mente ci può stare però ne ho acquistate altre due per un altro motivo ma adesso vi spiego ma se vedete bene se riesco a farvelo vedere bene da vicino questi capelli sono abbastanza tipo effetto frisè un po' crespi perché si utilizzano per le treccine io ho acquistato questi che vanno da neri a fucsia e questi che vanno da neri a rosa chiaro se vedete la differenza e pensavo di mescolarli fare un mix e farmi le treccine a tutta testa molti di voi me l'hanno sconsigliato su Instagram perché mi hanno detto che si rovinano i capelli altri mi hanno detto che non starei bene però sapete quando una cosa comincia a ronzarmi nel cervello io prima o poi la devo fare quindi ho acquistato questi e prima o poi devo trovare qualcuno che gratuitamente ovviamente perché io non pago nessuno per queste cose che gratuitamente venga a farmeli poi magari invece pagherò qualcuno boh ci penserò comunque tornando al discorso delle bambole mi sono perso nei miei discorsi io li ho piastrati sono arrivato a piastrarli a 230 gradi una cosa che pazzesca non so come facciano a reggere una temperatura così alta ma comunque non riescono a venire lisci perfettamente non riescono a venire perfetti come tutti gli altri che utilizzo io quindi questi qui specifici di Primark non ve li consiglio per il reroute per le bambole da Primark non ho acquistato altro anzi sì ho acquistato questa canotta che è anche storta no è dritta che ve la faccio vedere solo per farvi capire il colore cioè guardate la mia faccia attraverso cioè la luce che passa attraverso questa che arriva sulla mia faccia mi sa che in videocamera non rende ragazzi ma è super iper mega fluo mi sa che sfaserà tutti i colori è una cosa che mi dà quasi fastidio alla vista ad avercela qui con le luci sparate addosso sapete che non ho neanche fatto caso alla scritta live your life Miami keep it moving vabbè sì insomma c'è scritto niente di speciale e ovviamente dovevano mettere la scritta in azzurro per fare contrasto giusto a spaccarti completamente gli occhi e appena sarà un attimino più abbronzato visto che adesso ho l'abbronzatura della canotta per quando vado a correre faccio cagare appena sarà un pochino più abbronzato sicuramente questa sarà ficca e risalterà l'abbronzatura finito Primark voglio continuare con gli episodi di io e la mia malattia come sapete nello scorso video vi ho mostrato che è uscito il nuovo album di Kylie Minogue che io avevo acquistato il vinile e il disco questo qui il cd doppio ovviamente secondo voi mi poteva bastare tutto ciò no e infatti ho acquistato anche questa versione fatta se vedete è un po' diversa perché questa è fatta quadrata questa è fatta tipo a dvd dove all'interno ci sono ovviamente i due cd e poi c'è tipo un libretto con delle immagini insomma varie cose e poi ho acquistato una cosa che non so se potrò mai ascoltare realmente perché sono audio cassette o un mangianastri come cacchio si chiamano che usavo da bambino l'ho provato funziona ma tipo si sente tutto così e non è una cosa molto piacevole però ragazzi guardate che carina la confezione è bellissima la sta mettendo a fuoco boh chi lo sa comunque qui c'è la scritta ovviamente del disco qui sopra c'è un'altra scrittina qui dietro scusate ma ovviamente la fortuna ha voluto che ci fosse anche la memory card scarica dentro alla fotocamera e quindi è partito il video vabbè comunque vi stavo facendo vedere questo qui vabbè davanti in teoria ve l'ho fatto vedere qui sopra stavo dicendo che qui dietro hanno messo anche questi due cerchietti per simulare appunto una cassetta e all'interno ci sono le due cassette con sempre la solita copertina ma la cosa che voglio farvi vedere si poteva scegliere il colore di queste audio cassette e c'erano c'erano verde così c'era questo color pesca poi c'erano non mi ricordo e c'era anche ovviamente l'opzione oro e io che colore ho scelto ovviamente le ho scelte oro e vabbè non sto neanche qua a dirvelo tanto non ha senso questo per farvi capire quanto i miei problemi da collezionista siano a un livello veramente pro andando avanti volevo farvi vedere che ho acquistato sì come sempre chi mi segue su Instagram lo sa mi sembra di essere tipo quelli di uomini e donne che dicono la redazione lo sa invece qua ci sono i miei ragazzi su Instagram lo sanno con tutti questi saldi ovviamente ci sono i saldi anche sulle Yankee Candle avevo deciso di non farvele più vedere ma in molti mi avete scritto che invece vi interessa vederle e quindi quando ho queste cose più consistenti ve le mostro per prima cosa ho acquistato questo set da 4 votivi quindi da 4 candeline piccole che costava non costava perché non c'è scritto il prezzo ma se non sbaglio costava sui 10 euro io comunque l'ho pagato 5 euro perché era scontato del 50% e ci sono queste 4 piccole candeline profumate e le profumazioni sono floral candy blush bouquet sun non so leggerlo comunque tipo un rosa e albicocca e poi c'è il gelsomino io l'ho acquistato principalmente per il floral candy che mi piace da morire poi comunque gli altri in camera li uso di conseguenza 5 euro va benissimo sempre Yankee Candle ho acquistato questa jarra grande della Misty Mountains che questa profumazione mi piace da morire questa è l'etichetta se volete per caso andare a sentirla non le ho ancora accese solo per farvele vedere intatte e mamma questa è buonissima sempre così buona e poi ho acquistato anche che erano uscite insieme nella collezione se non sbaglio estiva dell'anno scorso la Warm Desert Wind anche questa ha un'etichetta molto carina con sopra tipo il deserto e anche questa buonissima molto diversa ma super buona e poi poteva essere conclusa qui la situazione no ve ne ho già parlato tempo fa delle Woodwick che le ho scoperte da poco che sono queste qui costano qualcosina in più ma anche questa qui l'ho pagata scontata e sono quelle che hanno lo stoppino fatto così molto largo che fa tutta quella fiamma bella bella larga insomma avete capito che scricchiola questo qui è una profumazione molto semplice il baby powder quindi sa di talco non l'ho ancora accesa perché aspetto ovviamente che ci siano quelle serate in cui chiudere le finestre e avere proprio questo questa atmosfera da mini camminito acceso sul tavolino mentre guardo la tv poi ho acquistato per la casa non ve ne fregarà niente ma io dovevo farvelo vedere perché è troppo figo ho trovato degli strofinacci o meglio li ha trovati mia mamma ero in giro con lei non li avevo neanche visti ero stufo e lei si mette a guardare gli strofinacci eppure ha fatto bene perché guardate che strofinacci mi ha trovato tutti pieni di fenicotteri ci sono quelli con i fenicotteri un pochino più piccoli oppure quelli con i fenicotteri un pochino più grandi non li ho ancora aperti ma sono troppo carini infatti quando me li ha fatti vedere mi fa li vuoi sì certo subito nel cestino e li portiamo a casa nel cestino non da buttare ovviamente nel cestino quello per la spesa insomma perché avete capito poi 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 ho acquistato una bambola che l'avete già vista nella scorsa recensione è questa Mulan cantante questa Mulan singing se non l'avete ancora vista vi lascio qui sopra il video da recuperare devo dirvi che mi è piaciuta un sacco anche se ha un paio di cose che potevano migliorare ma comunque è Disney Store ma vi rimando comunque al video che c'è qui poi ho acquistato le mie primissime off the hooks anche quelle vi lascio adesso qui il video se volete andare a vedere la recensione me le sono dimenticate nell'altra camera e visto che sono uno scansa fatiche non vado a prenderle comunque appunto cliccate qui e guardate la recensione e poi ho acquistato due cose che vi faccio vedere molto velocemente perché queste qui andiamo sul tema horror quindi se inizio già farvele vedere poi sapete che c'è un qualcuno chiamato Tiffany che potrebbe arrivare a rompere i maroni ho preso questa e vi ho già fatto vedere anche troppo sorpresa vi dico solo che c'è scritto le fiabe incantate delle fate con il mio magico cavallo alato se volete fare un fermo immagine in quel momento fatelo ma io ve lo sconsiglio tanto a breve lo vedrete e poi ho fatto un altro acquisto sempre tema horror molto diverso dal solito vedremo cosa succederà con questa cosa io ho paurissima ed è questo anche questo basta ve l'ho già mostrato anche troppo credo che con quella Tiffany ne farà di tutti i colori io sono già stufo solo a pensarci detto questo mi mancano le ultime cose da mostrarvi ma prima no una cosa ce l'ho qua dietro ma non so se ve ne frega niente pensate come sono ridotto male mi sono comprato quei materassini gonfiabili non quelli da mare da andare sopra l'acqua si può usare anche per quello certo però sono quelli che si dovrebbero usare per dormire in tenda in campeggio l'ho acquistato da mettere qui dietro per terra un giorno magari vi farò il room tour della mia stanza del mio studio dove registro e questo qui questo materasso qui sotto lo tengo qua perché come sapete ho messo il condizionatore portatile qui davanti cioè dietro la telecamera e quindi quando c'è un sacco di caldo o in una pausa tra le registrazioni dei video io prendo mi sdraio qui e ciao non voglio più sentire nessuno ma oltre a quello volevo dirvi che mi sono fatto l'abbonamento a Gardaland ho avuto questa pazzia di dire ma si vaffanculo ne stavo parlando un po' di tempo fa con una mia amica che voleva andarci io ero un po' tipo ma non lo so poi sapete quando non ci pensate ma dovete brontolare lamentarvi per qualcosa ecco io l'ho fatto su Gardaland con questa mia amica poi ne ho parlato con un'altra mia amica che mi ha detto guarda io l'abbonamento costa poco e io ma non lo so tanto poi non lo sfrutto insomma c'è stato l'altro giorno parlando con mia mamma mia mamma mi fa ascoltami infatti sto cazzo di abbonamento a Gardaland tanto costa 42 euro l'ingresso costa 55 euro l'abbonamento ci vai due volte e praticamente ti sei già ripagato l'abbonamento e ci hai anche guadagnato e io non avevo fatto questo calcolo molto basic e banale scontato e quindi ho fatto l'abbonamento a Gardaland e ieri sono andato a Gardaland mi sono fatto un pomeriggio fino a sera fino a chiusura a Gardaland mi sono stra divertito non vedo l'ora di tornarci magari settimana prossima già ci andrò magari vi renderò anche più partecipi perché ieri voglio dirvi la verità ho staccato un po' da tutti i social ho staccato anche da instagram ho messo solo 2-3 storie perché proprio volevo svagarmi e comunque sono andato mi sono divertito se vi capita sappiate che è molto bello e non vi conviene andarci con il biglietto normale ma far l'abbonamento e ho comprato non c'entra niente perché è una granita però guardate il bicchiere della granita è troppo carino so che si trova anche in alcune piscine l'idea fatto così praticamente questo bicchiere qui quando compri la granita ti danno questo bicchiere ovviamente è pieno ci sono sette gusti mi pare tu puoi metterteli anche tutti loro ti fanno i vari strati poi va in giro così e c'è anche il gancettino che adesso l'ho staccato perché l'ho lavato ma è di là c'è comunque il gancettino con scritto guard l'ho andato a attaccare al collo e poi si può andare a riempire mi stavo per ammazzare e poi si può andare a riempire pagandolo molto meno tutte le volte che si vuole e se vedete qui sotto c'è ovviamente prezzemolo e anche qui ma non si capirà mai nella vita la plastica qui è a forma di prezzemolo e non lo so volevo farvelo vedere perché mi sentivo così scemo andare in giro con sta cosa così acciucciare sta cosa in giro per il parco con il coso attaccato al collo vabbè insomma sono tornato bambino e poi ho acquistato un'altra cosina sempre lì qua infatti c'è la bustina dello shop di Gardaland uno dei tanti shop di Gardaland e questa cosa mi piace cioè appena l'ho vista ho detto sono mie sapete che bevo il caffè tutte le mattine tutte le sere ho il mio caffè normale la mattina il mio decaffeinato alla sera e mi sono comprato il set di tazzine di Gardaland ma guardate che carine sono fatte tipo in questo stile molto vintage con prezzemolo e lei che non mi ricordo mai come cacchio si chiama e ovviamente sulle tazzine ho il terrore di romperle di farle cadere ci sono loro due boh non lo so mi piacevano da morire infatti sono stato lì a scegliermele a cercare quelle messe meglio sapete che poi tante volte ci sono i difetti e vabbè io ho controllato tutto e non vedo l'ora di usarle volevo già usarle stamattina però poi ho detto no dovrei aprirle non riesco più a farle vedere con la confezione e quindi sono ancora lì ho aspettato per farveli vedere quindi ragazzi in teoria correndo correndo vi ho fatto vedere tutto credo se non vi ho fatto vedere tutto ve lo farò vedere nel prossimo ah sì no manca una cosa beh ve la farò vedere nel prossimo video è a tema Ariel quindi sappiate che sicuramente nel prossimo video ci sarà una cosa almeno almeno una a tema Ariel intanto spero che queste cose vi siano piaciute spero che queste cose horror vi abbiano un po' incuriosito per quello che succederà con Tiffany io da una parte non vedo l'ora dall'altra vorrei già spararmi fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto portate pazienza di nuovo se vi sto sparando una valanga di video di uno dietro l'altro ma se aspettassi a farlo poi dovrei farvene uno da 90 minuti e non mi pare il caso di fare un film su quello che ho acquistato quindi preferisco buttarne fuori diversi ma più corti scrivetemi anche qui sotto cosa state acquistando con questi saldi se avete trovato dei giocattoli dei vestiti delle candele qualsiasi roba quello che avete trovato che vi rende contenti che vi dà soddisfazione io vi dico paradossalmente che tra tutto quello che vi ho mostrato queste tazzine sono la cosa che più mi ha dato soddisfazione quindi aspetto qui sotto i vostri commenti stasera ve lo prometto mi metto almeno un'oretta a rispondere a tutti i vostri commenti spero di riuscirci anche se non ce la farò mai perché sono tantissimi io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto come sempre lasciatemi qui sotto un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi anche su facebook e su instagram perché su instagram veramente potreste vedere la giornata dove non faccio un tubo e sono in casa a grattarmi la giornata dove lavoro o anche la giornata dove vado a Gardaland e quindi vi rendo partecipi molto di più confronto che qui su youtube dove tutto arriva un po' rallentato quindi ragazzi io vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video